La modernità dell'economia circolare, cioè recuperare materie prime e seconde dai rifiuti. Il suo nome è comparso tra le carte di un'indagine della Procura di Perugia sul presunto traffico di rifiuti elettrici, in particolare pannelli fotovoltaici, con l'Africa. E' Francesco Baldarelli, ex eurodeputato ed ex sindaco di Fano, già esponente del PD, ora però distante dalla politica e imprenditore a tempo pieno con l'incarico di direttore generale dell'Arcord Phoenix, società con sede all'Aquila, che si occupa del trattamento smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, da cui ricava materie pregiate per poi rivendere all'industria, come rame, alluminio, palladio e oro. La colpa sua e della sua azienda, per essere finita nel carderone della maxinchiesta, che coinvolge centinaia di persone ed avviata diversi anni fa, forse è quella di aver avuto contatti con il principale imputato dell'inchiesta, tale Renzo Gatti, titolare della Regest di Gualdo Tadino, individuato dalla Procura di Perugia come il vero dominus dell'organizzazione, indagato per associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti da apparecchiature elettroniche. Il nome di Baldarelli, visto probabilmente il suo passato politico, è rimbalzato nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali, pur non avendo ricevuto alcun avviso di garanzia o comunicazione alcuna dalla Procura, come sottolineato nella conferenza stampa, che l'azienda e i suoi legali hanno ottenuto, per salvaguardare il suo buon nome, la credibilità dell'azienda, che conta tecnologia all'avanguardia, una sessantina di dipendenti, e ha ricevuto anche recentemente la whitelist dalla Prefettura, a conferma della sua totale estraneità dai fatti. Siamo stati naturalmente verificati, quindi questo vuol dire che abbiamo le condizioni. Non ho ricevuto nulla, quindi non avendo ricevuto nulla, sono fiducioso che questa cosa sia solo una informazione giornalistica. Probabilmente il mio nome è nell'elenco delle società che hanno lavorato con RaiGest, ma non per le vicende su fotovoltaico, ma solo per il materiale elettrico e elettronico, per cui aspetto e sono sereno che tutte le cose si chiariranno in una maniera più assoluta. In qualche modo sento che quando si insiste un po' troppo e si cerca in qualche modo di buttare in prima pagina la persona per dire che comunque è lui, comunque è lui, eccetera, badate, io sto facendo con serietà il mio lavoro. Faccio le cose per bene, abbiate fiducia, non ho nessuna intenzione di fare cose che non sono corrette, quindi vorrei continuare a lavorare senza andare continuamente nell'organo di informazione.